Bandiere l'estate a lutto davanti al comune e alla provincia per la morte dell'ambasciatore in Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Ma Prato tira anche un sospiro di sollievo, perché Rocco Leone, che in città è nato, è sopravvissuto all'attentato. Da anni ormai si era trasferito a Firenze, dove vive con la moglie, ma spesso tornava in città, l'ultima volta stata per le vacanze di Natale, per trovare l'anziano padre e le due sorelle, uno medico Don Toiatra e l'altro funzionario di banca. Siamo tanti, abbiamo una chat a cui partecipa anche Rocco, ma al momento, raccontò un cugino, non si è fatto ancora sentire. So per certo che è ricoverato sotto shock e non ha riportato ferite. Mi pare anche di aver capito che i carabinieri stanno organizzando il rientro in Italia, che presumo sarà fatto in tempi brevi. Leone, da ragazzo, è stato uno scout. Era un ragazzino intelligente, vivace, brillante, non per parlare bene delle persone di cui bisogna per forza parlare bene, dimostrava di avere delle ottime qualità. Era sempre molto curioso, sorridente, piacevole da stare insieme. Una scelta, quella di lavorare nella cooperazione, che è nata fin da quando era ragazzo. Il suo lavoro non era una semplice professione, era un qualcosa che corrispondeva perfettamente anche alle sue passioni, alla voglia di conoscere il mondo, di girare il mondo e anche di aiutare gli altri. Mi sembrava non particolarmente preoccupato, probabilmente lui era stato di più in alcuni momenti in cui aveva vissuto in altre parti.